Ti salutiamo Vergine, colomba tutta pura, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi Maria, prega per i figli tuoi, madre che tutto puoi, abbi di noi pietà, abbi di noi pietà. Vorrei salire in cielo, rodere il tuo bel viso, madre del paradiso e madre di Gesù. Prega per noi Maria, prega per i figli tuoi, madre che tutto puoi, abbi di noi pietà. Prega per noi Maria, prega per i figli tuoi, madre che tutto puoi, abbi di noi pietà. Prega per noi Maria, prega per i figli tuoi, madre che tutto puoi, abbi di noi pietà. Come ho già detto prima, onoreremo la Santissima Vergine in questa notte a lei dedicata in questo modo. Staremo qui non più di 10-11 minuti perché la Madonna ci vuole in buona salute. Poi ci trasferiremo dentro a turno però, quindi da qui alle 11 e mezzo potremmo. Quindi in chiesa saranno seduti solo quelli che possono occupare i boschi. Ovviamente diamo la precedenza agli anziani, perché poi non potranno ritornare. Mentre quelli che hanno i piedi buoni possono andare a casa, a cenare, puoi tornare, d'accordo? E anche qui vi raccomando, io ho un po' di un metro, coprendo il naso, sia qui che in chiesa. Se andiamo a restare in casa, è molto attento con queste cose perché è inutile che vi spieghi.